Eccoci qui, buongiorno amici followers, bentornati sul canale, bentornati a una nuova titolata, il content dove vado ad analizzare i titoli che voi mi chiedete nei commenti. Prima di iniziare la titolata vi ricordo come sempre che questi non sono consigli finanziari, di investire sempre secondo le vostre regole di investimento e le vostre regole di rischio. Una volta detto questo vi invito a farmi sapere altri titoli che vi interessa vedere nelle prossime titolate, come sempre nome del titolo, sigla e se avete voglia anche una vostra analisi. In questo modo avrò già un punto di partenza e potrò aiutarvi meglio nel momento in cui analizzerò il vostro titolo. Poi se il vostro titolo me l'avete già chiesto, io non l'ho ancora analizzato, siate perseveranti e continuate a scrivermelo sotto nei commenti, vedrete che prima o poi uscirà in una titolata. Ricordo che sono due a settimana, una il mercoledì e una la domenica. Detto ciò partiamo subito a titolare e vedete già sulla destra i titoli che andremo ad analizzare nella giornata di oggi. Abbiamo Wells Fargo, abbiamo Bank of America, abbiamo Amazon, abbiamo Campare, abbiamo addirittura poste italiane, quindi veramente oggi abbiamo un sacco di roba. Di conseguenza non mi perdo troppo in chiacchiere, mi sposto di qua e partiamo con la titolata partendo proprio da Wells Fargo. Wells Fargo che è una banca americana, adesso guardate vi condivido subito lo schermo, leggiamo qua sulla sinistra, Wells Fargo è una holding, la società è attiva nel campo dei servizi finanziari, tre segmenti operativi, community banking, wall sales banking, wealth and investment management, questi sono i servizi che offre, insomma in pratica stiamo parlando nel settore bancario, stiamo parlando di una banca. Una banca con capitalizzazione 197 billion, quindi una capitalizzazione bella e importante e un rapporto PE di 12, un rapporto PE che per un'azienda nel settore bancario è ok, quindi un rapporto PE anche accettabile. Quindi rapporto PE giusto, capitalizzazione giusta e da un punto di vista tecnico, partendo da un punto di vista tecnico per fare l'analisi, cosa noto sul titolo? Noto che siamo proprio in una zona di resistenza importante, una zona di resistenza che il titolo non è mai riuscito a rompere, a parte proprio qui nel 2018, in particolare sto parlando di quest'area intorno ai 60 dollari. Vediamo proprio che ogni volta che il titolo arriva in area 60 dollari, poi dopo torna giù, non c'è mica verso di rompere questa zona, questa zona che possiamo dire va dai 58 ai 62, no? Tutte le volte torna giù. Allora, qui è giusto chiedersi, cosa si fa in una situazione del genere? Secondo me, se da un punto di vista tecnico una rottura di questa zona non la si vede, è rischioso andare a operare prima di una potenziale rottura o comunque in questa zona. Cioè, secondo me, anche se i bilanci dovessero essere positivi, interessanti e via dicendo, essere in questa zona tra 60, 57 e 50, secondo me si sta comprando troppo alto, perché storicamente non è mai riuscito a rompere quest'area. Comunque, fatta questa premessa, andiamo ora a vedere un po' i bilanci. Bilanci che, guardo se ho condiviso bene, ora dovreste vedere bene tutto, perfetto. Bilanci che partiamo dal 2023. 2023 è un anno positivo, un anno non dei record, quindi un 2023 che in realtà è stato inferiore al 2017, inferiore al 2018, quasi pare al 2019, inferiore al 2021. Quindi un 2023 che, comunque, non è che ha troppo sorpreso, no? A livello di fatturata, a livello di utile netto. Se andiamo a vedere trimestralmente, il Q1 24 ha fatto leggermente peggio del Q1 23 e il Q2 24 ha fatto leggermente peggio, vedete proprio la fascia dell'utile netto, mi sto rifacendo all'utile netto, leggermente peggio del Q2 23. Come è utile netto, leggermente meglio, invece, il fatturato totale. Una situazione del genere, secondo me, signori, non presenta in questo momento occasioni, perché abbiamo un titolo che, anno su anno, più o meno è standard. Siamo sempre su quei livelli lì. E quando i bilanci, quando inizia a fare un utile netto intorno ai 19 billion, più o meno il prezzo sta qui, intorno ad area 60. Questo è quello che succede. Poi dopo, vediamo già un Q1 24 che, per il momento, ha leggermente deluso rispetto al 2023. Secondo me, già questi dati e la componente tecnica mi fanno dire che è meglio rimanere fuori dal titolo. Ingressi long, invece, dove sarei interessato a ingressi long? Sarei interessato a ingressi long se il titolo dovesse arrivare, ecco, in area 47. Cioè, una bella discesa che mi permette di acquistare il titolo, magari con un doppio ingresso, 47 e 44, ecco, qui, io sì che sarei contento, no? Con un doppio ingresso di questo tipo, 47 e 50 e 44 e 50. Queste sono le due zone, secondo me, interessanti. Chi volesse potrebbe andare giù anche in zona 40 e poi dopo in zona 36 e 39, per cercare di comprare in questa zona. E come target l'area dei 60. Questa, secondo me, è l'unica operatività interessante e fattibile su questo titolo. Qui abbiamo il nostro take profit, ecco qua, lo facciamo in verde e poi dopo un nostro plosolo si può mettere qua sotto. Chi vuole può costruire l'operazione andando ad aggiungere due ingressi in 40 e in area 36 e 60. Però, prima di quei livelli, il titolo, a mio parere, non è interessante. Prossimo titolo che andiamo a vedere è Amazon. Amazon su cui avevamo fatto una bella operazione long nel mese di giugno. Un'operazione quasi speculative, era stata perché avevamo preso pochi punti, entrando in area 177 e raggiungendo l'area dei 188. Niente di straordinario. Amazon che, andiamo a vedere come si sta comportando da un punto di vista proprio tecnico, ha aggiornato i massimi storici. No, avevamo cercato un'operazione proprio per andare a toccare i massimi storici registrati nel 2021. Sono stati non solo aggiornati, ma addirittura superati come prezzi. Quindi, situazione ampiamente interessante per Amazon che in questo momento sta. Ha toccato l'area dei 200 ed è tornata giù. Benissimo. Qui, secondo me, si può tornare a fare una bella operazione che adesso vi faccio vedere. Prima, però, di farvi vedere l'operazione, vi faccio vedere il perché penso di fare un'operazione long su Amazon. Amazon, sappiamo, servizi di acquisto a dettaglio online, mega azienda, capitalizzazione 2 trilioni, roba da niente. Rapporto PE 54 che per Amazon è alto, ma Amazon ha sempre un rapporto PE così alto. Cioè, fosse un'azienda diversa da Amazon, vedo 54 e rimango fuori. Amazon ci ha abituato a dei PE anche di 60, 70, 80, 100. Venderla a 54 è quasi ok. Detto ciò, Q1 24 batte Q1 23. Ma lo batte, batte, no? Tra 3 billion abbiamo fatto 10 billion di utile netto, quindi non è che l'ha battuto, l'ha demolito. Se andiamo a vedere anno su anno il 2023, dopo un 2022 pericoloso, un 2023 che batte il 2021, qua, signori, ci può stare di aspettarsi un 2024 migliore del 2023 e di conseguenza anche del 2021. Quindi il 2024 per come è partito, prossima trimestrale sarà importante vederla in data 25 luglio, sarà interessante vedere quindi tra un paio di settimane, però in questo momento ci si può aspettare un 2024 migliore del 2023. azienda leader nel suo settore, fortissimo, tanti settori anche Amazon si sta spostando, la parte video, la parte musica e via dicendo. Insomma, secondo me è un'azienda che ha senso comprare, un'azienda che può continuare a crescere. Quindi primo ingresso ora lo faccio in area 190. Prima avevo ingressi, invece faccio vedere, vediamo se me li da ancora, come l'ho messo prima. Primo ero posizionato in questo modo, adesso cosa penso di fare? Allora, primo ingresso me lo sposto, guardate, qui in area 190, così. Se fa una correzione, io sono già pronto a entrare in area 190. Secondo ingresso, cioè avevo in area 179, giusto per fare cifra tonda, faccio area 180. Quindi mi muovo in questo modo su Amazon, 190 primo ingresso, quindi il mio target precedente è ora il mio primo punto di ingresso. Aspetto una correzione per potermi posizionare long. Poi dopo ancora l'area dei 170 qua sotto che vedete già evidenziata, e infine, secondo me, si può arrivare fino ad area 160. Questa secondo me è un'ottima operazione, andiamo anche a sfruttare un po' quella lateralità che era stata registrata nel 2021. Usiamo questo minimo anche relativo, in data 25 aprile, quindi secondo me è una bella operazione. Stop loss al di sotto dei 160, usiamo a prezzi psicologici, target l'area dei 200. Riproviamo a prendere altri 10 punti, questa è la mia operatività. Per chi è long per il long term, secondo me si può continuare a rimanere long senza alcun tipo di problema. Il titolo sta andando molto molto bene. Prossimo titolo che andiamo a vedere, Bank of America. Ecco qui, siamo sempre nel settore bancario, siamo sempre in America. Bank of America qua, leggiamo velocemente, holding bancario e finanziario, si occupa nella fortuna di servizi bancari e non bancari, anche qualcosa di non bancario, per attraverso i seguenti segmenti, vi mettete il video in pausa se volete leggerlo tutto, adesso evito per non fare un video lunghissimo. Capitalizzazione. 325 billion, rapporto PE 14, leggermente più alto rispetto a Wells Fargo che era 12, ma comunque per il settore bancario sotto i 15, secondo me va più che bene. Da anche dividendi, quindi va bene anche per i cassettisti come titolo e se andiamo a vedere da un punto di vista finanziario, signori, va abbastanza bene Bank of America era 41. Ricordo nel 2023 avevamo cercato, avevamo anche fatto qualche bella operazione, dall'inizio del 2023 e anche verso la fine del 2023 su Bank of America, proprio per il discorso tassi di interesse alti, e abbiamo detto tutto il discorso che c'era del potenziale per tornare in area 36, area che è stata ampiamente rotta dal titolo che ora si trova in area 41-42. Allora, da un punto di vista tecnico il massimo è in area 50, qui sono in area 41 e se vado a vedere un po' i fondamentali per il settore bancario, e questo vale anche per Wells Fargo, ci si prevede comunque verso la fine dell'anno un taglio dei tassi di interesse in America, o comunque un inizio del taglio dei tassi. Il settore bancario chiaramente andrà, questo taglio dei tassi, quindi tassi più bassi, denaro che costa meno, andrà a impattare gli utili risultati delle banche. E quindi prendere adesso un titolo come Bank of America in questa situazione macroeconomica, quasi vicino ai massimi, mi sembra un po' rischioso, come mi sembra rischioso per Wells Fargo, qui ci aggiungevamo anche il motivo tecnico, qui il motivo tecnico in realtà non c'è, ma c'è questo motivo macroeconomico, quindi il titolo in questo momento non mi attira più di tanto per questo motivo. Ora vado alla parte di bilancio e vedo se mi smentisce o meno. Allora, andiamo a vedere, anno su anno, 2023 hanno direi quasi dei record, no, non è vero, non è vero, perché aveva fatto meglio nel 2021, nel 2022 aveva fatto meglio nel 2023. Insomma, è stato un anno nel 2023, poi in realtà, se andiamo a vederlo, non così straordinario per l'azienda, ha fatto tanto fatturato, ma a livello di utile, poi dopo in realtà è stata un po' più scadente. Andiamo a vedere il Q1,24, che è anche qui tanto fatturato, però se andiamo a vedere rispetto al Q1,23 ha fatto peggio. Signori, attenzione, non mi sta ispirando così tanto, anzi, pensavo da bilancio di vedere qualcosa di meglio. Flusso di cassa di attività operative, diamogli un po' più di tempo. Q1,24, beh, questo però è un bel segnale, questo è un bel segnale, eh. Ecco, cosa che voglio far vedere, 2023 aveva deluso il flusso di cassa di attività operative, no? E invece vediamo un Q1,24, che ha riuscito a rispingere un po' verso l'alto questa cosa. Quindi un elemento positivo c'è in realtà. Però, se vado a vedere il bilancio, effettivamente vedo che la crescita anno su anno non c'è. C'è il fatturato che cresce, ma non l'utile netto. Q1,24 è ancora fatturato molto importante, ma l'utile netto è inferiore. Di conseguenza, per la situazione macro, per il bilancio che non mi convince così tanto, secondo me, Bank of America in questo momento non risulta interessante. Anzi, risulta un titolo che chi l'ha comprato, magari, in area dei 30, 28, 26, no? E ce l'ha ancora in portafoglio, potrebbero essere ottime zone per liquidare. Io in area 36 avevo liquidato tutto, tra 36 e 38, proprio su questa area di resistenza che poi dopo è stata rotta a rialzo, ma era difficile da pensare. Però, comunque, tornando a noi, in questo caso io non andrei a acquistare il titolo, dove lo andrei ad acquistare potenzialmente l'area dei 38 è interessante, ma ancora, a mio parere, rischiosa. Secondo me, l'area migliore per cercare un acquisto long è quest'area qui, signori, l'area dei 36. Questa, secondo me, signori, è la zona un po' più interessante per gli acquisti long. Quindi, chi vuole essere un po' più aggressivo, 38, 36, e poi può andare giù anche fino ad area 34. Invece, chi vuole essere, quindi, un ingresso di questo tipo, chi vuole essere più conservativo e non avere fretta di entrare sul titolo, come penso di muovermi io, può aspettare serenamente l'area dei 36. Si vede un po' come si arriva, si vedono un po' i bilanci, e poi dopo può pensare di fare un'operatività di questo tipo. Quindi, 36, 34, e poi dopo si fa un ultimo ingresso in zona dei 32. Ecco qua. Quindi questa è l'operatività che, secondo me, si può fare su Bank of America. Operatività che, comunque, non vado a forzare. Operatività che ci può stare, ma, secondo me, niente di straordinario. Prossimo titolo che vado a vedere. Ah, come target, Bank of America, cercherei il primo target, l'area dei 38. Secondo target, l'area dei 40. Ecco, 40 è l'area del target. Ma, ripeto, operazione che non mi fa impazzire. Quella che mi piace, invece, molto è quella su Amazon. Prossimo titolo che vado a vedere. Li Auto. Qui stiamo parlando di veicoli elettrici intelligenti. Azienda cinese. Se non mi ricordo male, sì, cinese. Vi faccio vedere il sito dell'azienda, giusto per renderci un attimo conto. Comunque, stiamo sempre parlando di macchine elettriche. Stiamo sempre parlando di un competitor di Tesla. La capitalizzazione 21 billion, rapporto P e 14. Azienda relativamente nuova, 2015, quindi meno di 10 anni. Adesso, qui, cerco di vedere se c'è anche la lingua inglese. Vabbè, comunque, non sto troppo a far vedere. Comunque, questi sono i modelli di auto che fa. Sono auto elettriche, sono auto intelligenti. Diciamo un po' aver copiato un po' Tesla, un po'. Insomma, questo è quello che sembra aver fatto gli auto. Comunque, non vedo, sono informato troppo, però vedi, diciamo, c'è l'intelligenza artificiale, qualcuno parla di AI, però sembra un Tesla, una copia di Tesla. Ecco qua, la versione cinese di Tesla. Quindi non mi fa impazzire come prodotto, perché non vedo nessun tipo di vantaggio competitivo nell'azienda. Se però andiamo a vedere i bilanci, cosa vedo? Vedo un 2023, però, che ha fatto molto bene. E questo mi interessa. Vedo poi un 2024, che però ha leggermente deluso rispetto, il Q124 ha leggermente deluso rispetto al Q123. Quindi, fino al 2023, devo dire bene. Quindi fino tutto il 2023 è andato abbastanza bene. Poi dopo c'è stata questa discesa clamorosa, dall'ultima trimestrale e poi dopo ancora. No, vediamo proprio che da questo momento in poi, da quando è uscita questa trimestrale, qua il titolo è iniziato a scendere con una certa forza. Vediamo dov'è. No, prima è salito e poi dopo è crollato. L'ultima trimestrale non l'ha rispinto verso l'alto. Se lo vado a vedere in questa zona, diventa una zona effettivamente interessante da un punto di vista operativo. Guardate, quest'area qui diventa abbastanza interessante da un punto di vista operativo. E vedo comunque un'azienda che a livello di risultati li sta facendo. Un po' deluso, sono d'accordo. L'ultimo, l'utile operativo, meno 103, ah ecco, questo è un brutto segnale. Vedete che qui l'utile operativo, che quindi quello effettivamente del business dell'azienda, ha deluso le aspettative, addirittura è uscito negativo, non è uscito negativo da qualche trimestre. Questo sicuramente non è piaciuto agli investitori. Flusso di cassa attività operative, ah, anche questo non piace. E quindi già inizio a capire, vedete che poi studiando un po' più nel dettaglio il bilancio, si vede poi perché questo ottimismo, che aveva portato il titolo a valere quasi 45, ora si è un po' arrestato. È un titolo che è un po' una bet, questo è quello che mi viene da dire, una scommessina. Che può essere fatta, secondo me, cercando di fare un piccolo ingresso in area 18, magari un primo ingresso qui in area 20, guardate, operatività molto molto semplice, si fa un ingresso in area 20, un ingresso in area 18 e poi dopo si va giù a 16 e giù ai 14. Quindi questa è l'operatività senza troppe ambizioni, quindi senza cercare chissà quali risultati straordinari da questa azienda, però potrebbe essere un qualcosa di interessante. Quindi triplo ingresso, stop loss e come target, magari avere un target ambizioso anche in area 32, primo target interessante, secondo target l'area dei 37. Operazione, abbastanza interessante, prossima trimestrale 26 agosto ci farà capire un po' il destino di questa azienda, vedremo se l'e-auto riuscirà a ottenere risultati interessanti. Per il momento è una bet, questa secondo me è una buona struttura che comunque difficilmente arriverà a stop loss, ma è quello che si può fare, operazione che valuterò se fare anche io per la mia operatività. Prossimo titolo che andiamo a vedere, Campari, Campari, è un titolo che ho segnalato in una caccia sui mercati, titolo che onestamente mi piace, avevo proprio costruito questa operatività, un'operatività di lungo termine, avevo segnalato, si poteva fare ingresso stop loss stretto, purtroppo è stato preso lo stop perché qui in area 8,8 è stata rotta con forza, ora il titolo sembra voler tornare, vedremo se è stata una falsa rottura o porterà a una discesa fino a 7,7. Campari che è un titolo che a livello di brand ha alcuni brand abbastanza famosi, tra cui il Campari, l'Aperol, la Sky Vodka, insomma un'azienda che ha dei brand conosciuti, un'azienda che poi dopo vi faccio vedere non vende solo in Italia, ma vende comunque un po' all the world, vedete anche la cosa importante, anche negli Stati Uniti c'è una bella quota di mercato, potete vedere, nelle Americhe, in America Latina vuol dire America, Germania, Francia, insomma è un'azienda che non è solo nel panorama italiano, capitalizzazione ok, rapporto PE questo, un pochino alto, un po' alto, 30 per un'azienda che comunque nel settore, passate il termine food, è un po' alto, se andiamo a vedere anno su anno il 2023, ha fatto leggermente di un non nulla, un utile netto inferiore rispetto al 2022, semestralmente non ci sono ancora i dati, la prossima semestrale sarà particolarmente importante. Neo dell'azienda è questo flusso di cassa di attività operative visto nel 2023, quindi abbiamo un'azienda che anno su anno, ve lo faccio rivedere, anno su anno sta facendo bene, perché se andiamo a vedere i rendimenti anno su anno ci siamo abbondantemente, perché c'è stata una crescita importante negli ultimi anni, non si può aspettare una crescita esponenziale, sta aumentando le quote di mercato, flusso di cassa, vedo che c'è stato un piccolo problema. Vedremo la prossima semestrale che esce tra pochissimo il 30 di luglio, se riporterà Campari verso l'alto in quanto ci dirà se l'azienda sta effettivamente continuando a crescere. Secondo me in questo momento la zona degli 8,8, 8,5, 7,5, qui come avevo segnalato, diventano zone abbastanza interessanti, io ho già il primo ingresso in area 8,8 e ho gli ordini piazzati già in area 7,7, ordini mentali, non li piazzo mai in macchina, e 6,4 vedrò come si comporta il titolo, quindi dopo l'uscita della semestrale, ricordo che le semestrali pesano di più rispetto alle trimestrali, perché insomma racchiudono due trimestrali insieme in pratica. Quindi operatività la mia rimane la seguente, basandomi su un trend anno su anno rialzista, quote di mercato che aumentano, chiaramente se dovessi vedere una semestrale brutta uscirei dalle mie posizioni, quindi non mi innamoro del titolo. Prossimo titolo che mi avete chiesto, Poste Italiane, Poste Italiane mi avete anche fatto una piccola analisi nel commento, ringrazio, dove mi dicevate, guarda Silvio guardalo perché non è solo la posta, ma si sta sviluppando in vari settori, infatti possiamo vedere già chi usa Poste, poi dopo lo sa che offre servizi di pagamenti, mobili digitali, servizi finanziari, servizi assicurativi, insomma, è un'azienda che non è più il segmento posta pacchi, ma è un segmento che ci sta un po' pagamenti, telefonia mobile e digitale, insomma, è un'azienda che nel suo piccolo sta effettivamente facendo abbastanza bene. Sta facendo abbastanza bene nel senso che si è allargata in vari settori e comunque i risultati stanno vedendo, no? Stanno vedendo i posti italiani, dopo un crollo che ha avuto dal 1900 qualcosa oggi, adesso non si vede. Comunque, panoramica, capitalizzazione, ci siamo, rapporto PE, ok, report, andiamo a vedere, anno su anno ridotto il fatturato, perché il fatturato 2020 così non si vede più, ma ha aumentato l'utile netto, signori, 1,92. Guardate, 1,92 non si era mai visto, no? Guardate, proprio perché dico, l'utile netto è quello che conta, non è importante quanto fattura, è importante quanto ti metti in tasca alla fine. E quindi, azienda interessante per questo, perché ha cambiato qualcosa, ha cambiato molto, ridotto tanto il fatturato, ma ha aumentato l'utile netto. Questo, secondo me, è un bel dato. Flusso di cassa d'attività operativa, vediamo come va, 2023 è anche positivo, meglio del 2022. Q1,24 batte Q1,23. Signori, poste italiane, non l'avrei detto, forse per qualche preconcetto, ma non è un brutto titolo in questo momento. Secondo me, questo trend che vediamo ora sui massimi è giustificato, essere qui proprio sui massimi è giustificato dai risultati aziendali. Quindi, secondo me, in area 12, cercare un long, qui, un bel long in area 12, e cercare di portare questo long, senza esagerare troppo, guardate, fino ad area 11, e magari fare 12, 11,5 e 11 per degli ingressi, quindi triplo ingresso di questo tipo, stop loss qua sotto, sotto gli 11, quindi poi dopo si esce alla svelta, non è una cosa che si cerca, ma magari fa un bel impulso verso l'area dei 13, l'area dei 13,5, continuando a mantenere questo trend di trimestrali rialziste, di anno su anno rialziste, secondo me può essere interessante. Primo target, l'area dei 13, secondo target, andiamo sui prezzi psicologici, 13,5 e 14 possono essere potenziali livelli. Quindi, poste italiane, titolo interessante, secondo me questa è una bella operazione per sfruttare il trend dell'azienda in questo momento. Prossimo titolo che andiamo a vedere, Pernod Richer, siamo sempre nel settore alcolici, qui alcolici e champagne, è uno dei principali produttori al mondo, ha tantissimi brand, adesso vi faccio vedere, giusto per capirci, adesso vedo di andare sul sito dell'azienda, qua mi chiede l'anno di nascita, 1996, ecco qua, benissimo, our brand, andiamo a vedere, brand in portfolio, qua vi faccio vedere velocemente i brand che ci sono, io non sono un gran esperto, quindi non saprei dirvi bene, non li conosco, però magari qualcuno di voi li conosce meglio, Havana Club so cos'è, Malibu so cos'è, però tanta di questa roba non ho la più pallida idea di cosa sia. Comunque, ci sono tantissimi brand, che cosa sono? Poi dopo lo vedete qua, scotch e whisky, Irish whisky, cognac, brandy, vodka, gin, rum, champagne e via dicendo. Questo è quello che fa Pernod Richer, insomma, champagne e alcolici. Quindi, capitalizzazione, ci siamo, rapporto P e 16 è più che giusto, rendimento da dividendo, c'è, voglio vedere solo i dipendenti, che effettivamente sono un po' cresciuti, vuol dire che insomma, se aumenti i dipendenti vuol dire che il lavoro da fare ce l'ha, andiamo a vedere, anno su anno, conto economico, perché sta scendendo così tanto? Un 2023 che è stato un 2023 interessante, direi il 2023 dei record, quindi un 2023 interessante, che infatti poi dopo all'inizio del 2023 avvanno sui massimi, poi dopo da qui un crollo molto vertiginoso, e se andiamo a vedere l'ultimo semestre, l'H1,23 ha battuto l'H1,22. Flusso di cassa di attività operative, cosa vedo? 2023 leggermente inferiore al 2022, niente di grave, semestrale leggermente inferiore, l'ultima semestrale, il flusso di cassa vediamo che è un po' discendente, però H1,20 qua, vabbè, l'H1,22 poi è stato molto migliore. Però, vedendolo così, sono sincero, non mi sembra di vedere elementi che giustifichino una discesa che fa passare il titolo a 217 a 130. Signori, questa potrebbe essere veramente una bella occasione. Settore alcolici, lo vediamo con Campari, un settore un po' in crisi, un po' in crisi in generale a livello di mercato, ma a livello di bilanci, Pernod Richard sta andando molto molto bene, e secondo me, signori, stiamo arrivando a una zona interessante qua su Pernod Richard, e io cerco un'operazione a rialzo e come? Primo ingresso, aria 130, secondo ingresso, guardate, l'operazione qui la faccio abbastanza semplice, ma basandomi sempre sui prezzi psicologici, perché poi dopo potete vedere, io lo vedo abbastanza a occhio a forza di farlo, però coincidono i prezzi psicologici molto spesso con livelli di supporto e resistenza importanti, cioè andare a cercare di tracciare in maniera dettagliata, più o meno il prezzo psicologico coincide 130, 120, 110, 100. Questa è la mia operatività, Pernod Richard stop loss in aria 94,48, target, l'aria, primo target, secondo me serenamente raggiungibile, l'aria dei 160. Signori, bel titolo Pernod Richard, ringrazio chi l'ha segnalato, secondo me ha le carte in regola, vedremo la prossima trimestrale come andrà, per ritornare verso l'alto. Il motivo per cui è sceso, l'ho visto adesso, queste due trimestrali che hanno deluso le aspettative degli investitori, si aspettavano più utile qui, si aspettavano più utile qui, secondo me due volte che le trimestrali sono state deluse portano il titolo a scendere, cioè i risultati trimestrali sono stati delusi, però comunque l'azienda sta crescendo anno su anno, a ritmo più lento rispetto a quello che si aspettava negli investitori, benissimo, quelli che si aspettavano dei ritmi importanti, secondo me si sono già mangiati i profitti, ora è il momento per chi vede e trova del valore, secondo me siamo arrivati giusti, aria dei 130 veramente, veramente valida. Prossimo titolo che andiamo a vedere, ultimo della titolata di oggi, Bayer, siamo nel settore farmaceutico, cosa vedo su Bayer? Bayer è il titolo che è sceso in maniera disastrosa, siamo arrivati all'area dei 25 praticamente, siamo in area 25, qui avevamo proprio detto tempo fa su una titolata vecchia, l'area dei 25 potrebbe essere un buon supporto, il massimo che si può fare è 25, si compra e poi si spera. Perché dicevo questo? Perché Bayer, capitalizzazione ok, il rapporto PA non me lo dà in questo momento, è un'azienda che ha fatto un 2023 da panico, da panico, da piangere, il 2023 è addirittura tornata in negativo. Trimestralmente però guardate cosa è venuto fuori, un Q124 che è tornato positivo, problema, Q124 positivo, ma inferiore a Q123, se andiamo a vedere l'utile netto, guardate bene, 218 rispetto ai 2, quindi siamo inferiori, ma siamo tornati in positivo, vedremo il Q224, se Q224 è positivo, perché l'anno scorso era stato negativo, quindi gli investitori vogliono vedere un Q2 positivo, se il Q2 è positivo, Bayer potrebbe ripartire, altrimenti potrebbe prendere una sassata, la mia operatività in questo caso non cambia, longa dall'area dei 25, questo supporto ormai ha dimostrato di aver funzionato, si può cercare qualche operazione speculativa, longa 25, poi target 28, stop loss 24, è un'operazione che ci può stare, ma secondo me ormai inizia a essere tardi, perché la trimestrale della verità sarà il 6 agosto, e qui vedremo un po' il destino dell'azienda. Detto ciò signori, per quanto riguarda la titolata di oggi, è effettivamente, tutto, se il video vi è piaciuto, e la titolata vi è piaciuta, vi invito a supportare il mio lavoro tramite un bel like, io vi ringrazio per la visualizzazione, fatemi sapere altri titoli che vi interessa vedere nelle prossime titolate, qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo per i prossimi video, sempre qui sul canale. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.